Per me è una grande emozione essere in questa aula oggi di questa università che mi ha incontrato 30 anni fa come giovanissima studentessa di Asimus e avere proprio qui l'opportunità di presentare uno dei miei autori preferiti, Enrico Gagliano, che secondo me è il professore, anzi il prof che tutti dovrebbero avere e che anch'io avrebbero dovuto avere. Enrico Gagliano è un insegnante e uno scrittore ed è diventato famoso con la sua web serie Cose da prof che nel giro di pochissimo tempo ha raggiunto più di ben migliori di visualizzazioni su Facebook. Ha anche fondato il movimento dei poetepisti, hashtag poetepisti, dei flash mob di studenti che si muovono per le città e le riempiono i muri di poesia, quindi di bellezza. Nel 2015 è stato inserito da masterprof.it nella lista del Centro Docenti Migliori d'Italia e nel 2017 è uscito il suo libro, Eppure cadiamo felici, che è stato immediatamente un successo, grandissimo. Tutti i suoi libri sono libri di successo e sono bellissimi, ma non sono belli, punto. La bellezza dei libri di Enrico Gagliano è una bellezza che insegna, ci insegna, si dice che uno trova nei libri gli insegnamenti che vuole cercare. I suoi libri insegnano, hanno degli insegnamenti particolari, più importanti. Per esempio ci insegnano l'importanza dell'ascolto. Se vogliamo avere un dialogo, dobbiamo ascoltare, più di tutto. Ci insegnano il coraggio, il coraggio di perdere l'equilibrio per un attimo, per fare un passo avanti, un passo avanti verso gli altri, ma anche verso la realizzazione di se stessi. E soprattutto ci insegnano a mettere da parte le nostre sicurezze per non smettere mai di imparare. Perché come ha detto i giusi, gli esami non finiscono mai nella vita. Una curiosità, Enrico, poi mi magari mi smentisci se non è vero, ma pare che ogni tanto salti in sella la sua bici, giri il mondo con lo zaino, penna e carta, pieno di entusiasmo e voglia di lasciarsi sorprendere. Enrico è accompagnato oggi musicalmente da Pablo Perissinotto, frilano come ricoveriano, ma con un cuore andaludo, con un cuore spagnolo, come dice il nome Pablo. La musica di Pablo è ricca di contaminazioni e i suoi testi sono delle proprie poesie legate nel sociale, quindi ascoltatele. Adesso io non voglio togliere altro tempo, soprattutto a questo bellissimo spettacolo, quindi al grido di, poi teppisti siamo, teppisti saremo, con Leopardi nella testa e dante delle sguore, vi lascio allo spettacolo, posso andare in bagno? Applausi 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 Terr Vols Enrico, cambiamolo! Va? Va? Sì, va! Già, ho mai trovato il sogno di dirlo, fin da quando ero proprio piccolo, sogniamo un giorno poter dire... Ciao, Friburgo! Allora, io faccio il prof, in Italia si chiama Scuole Medie, non so qua come si chiama, se hanno lo stesso nome, non esistono prof, che dubbio, ecco. Possiamo scegliere Gnutta? Ah, no, bene, ah, perciò! Sì, veniamo dall'altra parte. Ti vuoi preparare? La più bella, la più bella, la più bella. Ma per chi lo bella? Per quello bravo, quello del primo banco, quello che si siede lì, cazza sempre la mano, che appena... no, non vuoi fare? Per quello ho sentito all'ultimo, mamma. Quello che di solito, mentre tu spieghi con tutto, qui ti guarda così. E tu vuoi riuscire a ritenere gli ruvi, il fuoco, la passione per i libri, per l'arte, le scienze, eccetera. Allora appunto fai, direttivamente ce l'ha a fare, eh? Ti viene la lezione. Benissimo, e dopo un po' di tempo lo guardi e... adesso non ti sta più guardando città. Guarda, qui c'è anche gli occhi. No, sta alzando la mano? Vuole davvero intervenire e fare una domanda e poi cosa ti dice? Sì. Ecco perché... Dire teatro... Non so se fa bene essere così in tutti gli atti, di essere qui. Perché in realtà, voi non lo sapete, ma oggi, sabato, samstag, il sabato voi siete qua e farete un'intera giornata di scuola in un'ora e mezza. E me ne entusiasmo. Non andate in bagno perché sennò vi prendete la seconda guerra mondiale. Sì. Perché starete un po' breve. Ecco, con l'orario è tutto. Quindi per favore, fuori libretto personale, o diario, non so come si usa, un italiano, il libretto personale, e dovete scrivervi l'orario con la prima ora, la seconda ora, la terza ora, eccetera. Ora, di solito io faccio l'orario nella mia scuola, tendo a mettere sempre le prime ore cose leggere, perché sennò stanno le prime ore. Dillo, vero? Partito della prima ora faremo grammatica. Bene, sì. La seconda ora, invece, faremo un po' di mitologia. poi un'altra ora leggerina, leggerina, scienze. Ma occhio! Dopo la terza ora, come a scuola, noi dopo la terza ora c'è un intervallo. dell'intervallo. Sarà più Pablo, diciamo, a gestirci, un po' più liberi, un po' più no. Farà delle canzoni sue che però Pablo mi raccomando. Sei all'università? Raffieriti. Te lo dico già. Ultime due ore. A scuola noi abbiamo i quattro moschettieri delle ultime ore, che sono arte, musica, ginnastica e religione. Ma non è che si fa religione in Germania? Si fa le materie scolatiche. Sì. Poi, quindi, stiamo leggendo di nuovo, infatti, faremo storia. E l'ultima ora, un'ora di Danite, proprio, non c'è. E bene, li vedo un po' preoccupanti, avete visto. Li facciamo passare una mattina di inferno. Esatto. Io mi giro cinque secondi. Se volete scappare, questo è il momento che potete farlo. Però... Ah, disatto. Ok, stavo pensando, ma vabbè. Così un parola. Ah, non sei cascata. Ok. Non è mai successo. Quindi, prima ora, pronti via, si va con grammatica. Non so bene se in Germania come si studia la grammatica. Io con voi voglio però sperimentare un metodo alternativo. Una cosa nuova. Faremo... Si prende la tv qua, l'italiano, guardate. Guardate il grande fratello. Questo metodo si chiama metodo grande fratello. Perché? Quando io... Vi farò vedere delle cose. Quando voi guardate il grande fratello, di solito pensate a questo. Di solito pensiero più ricorrente. Ma accidenti, ma allora io sono intelligenza. Pensavo di essere scemo, ma invece... C'è gente molto più scema di me. Ecco. Stessa cosa. Io vi mostrerò. Dieci clipette che abbiamo trovato su internet. Sull'uso dell'apostrofo. L'ortografia all'apostrofo. E voi vi rendo spero a vedere il maschio. Pensavo di non sapere l'italiano. Inizio. Ora mi non so bene. Partiamo dalla numero dieci. Guardate qua. Alcuni hanno il sogno. Gli hanno la bellezza. Mi so qualche tanto. Altri hanno l'esempio degli altri. Cosa? Cosa hai? Cioè, siamo noi che non chiediamo a noi. Ma problemi hai? E questa è solo la dieci, eh? Va sempre peggio. Capito il metodo? E così ripassiamo come si scrive. Come si scrive cosa? Cosa hai? Cos'hai? Lo scriviamo così. Va bene? Numero nove. Ho. Cos'è? Ho. Con ness apostrofo. Quindi un saltino. Uno. Però si ripresa le H di prima. Non scambio. Io pensi che sia lo stesso. Però a me è stata una prof. Un prof d'italiano che è passato lì a fare questo. No. Però a me è stata una prof. Ricordiamoci che nessuno è maschile quindi nessun altro, ciascun altro. Forse non ve l'ho detto questo. Il termine della lezioncina ci sarà un breve momento di verifica. E da qui vanti già proprio. Perfetto. Perfetto. Guarda. Hai stato così perfetto. Quindi occhio. Andiamo con il numero 8. È corretto scrivere qual è? Qual è? Cosa costo? Cosa costo? Cosa costo? Cosa costo? Non svecciate su Google. Non c'è bene. Non c'è bene. Va bene. Non voglio approfondire troppo. Mi viene i famosi dodici apostrofi. Gesù i dodici apostrofi perché... Certo. Andiamo con il quale è il favore. È la mia battaglia personale. Sono che è persa la stagia. Cosa ci devo provare? Qual? Senza apostrofi. Ma tranquilli che tanto... Ma non ve lo metto nella verifica. Vabbè. Vabbè. Numero 7. Sei favorevole all'auto. Un'inizione del bollo auto. Io sì. Alla prossima cosa non sapete qui del bollo auto. In Italia ogni anno a dicembre si paga una tassa sulla macchina. Solo per il fatto che hai la macchina di pagare una tassa. Si chiama bollo auto. Vedete? Secondo me anche voi sareste favorevoli all'abbollizione del bollo auto. E ricordiamoci anche una cosa qui. Come funziona quando in italiano i due vocali si incontrano. È guerra. Vedete? Subito una delle due deve soccorrere. E purtroppo ci lascerà lei e resterà l'apostrofo. Ricordiamocelo. Numero 6. I due. I due. Ah. Ha osato. Nel senso che l'ha osato. Può essere. Può essere. Può essere. Brava. Bisogna sempre entrare nella mente degli studenti. No? Esatto. Bene. Per la quattro invece vedete che chiedono dei consigli anche magari se volete voi. non lo sai. Bruciore all'inizio è il bel ostorafo. Cosa gli possiamo dare? Un vocabolario. Un passo con me. Bene. Per la tre non vi dico io. Cercatevela voi perché va trovata. Ma quando la trovate da soddisfazione eh. Vediamo se riusciamo a individuare da belli errori. Cosa gli ho scoperto. Dota. Dota. Se ne vanno. Se ne vanno bello risponde. Dota. 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 Cosa è per voi quindi finchi le cose. Va bene. Comunque. Il grosso errore è quei baccalà d. Dota. 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 Ancora a scuola qua, a scuola di italiano soprattutto, ma anche non solo di italiano, ancora a scuola, perché si chiama? Sì, Sofia, faccio un regalo, a te, ma a tutti quelli che vanno ancora a scuola. La differenza tra errore e refuso, forse c'è anche in tedesco, non lo so, però in italiano è così. Un errore è quando tu non sai come si scrive, non ne hai idea, tipo pedoni sull'alto opposto, si vedeva che il tizio o la tizia non aveva idea di come si scrive. Ma un refuso è diverso. Un refuso tu sai come si scrive, ma sei distratto, sei di corsa, ti scappa, ti scappa, non sbaglio, ma ventura, sai come si scrive? E allora quello lì si chiama refuso. Bene, la prossima volta che il prof ti segnerà in rosso, un errore, tu alzerai la mano, così, dirai no, con il sopraccigliato così, direi no, prof, evidentemente questo è un refuso. Questo è benissimo, come si scrive, ok Sofia? Ti vedrai che, bene. Spreta il tipo da te rimini e dopo l'ha scritto giusto, no, quindi forse l'ho refuso prima. Però, bacca lavorato, l'ha scritto due parole. Medaglia d'argento, sto già male, sto già male. Buona da morire. Numero uno, vincitore della classifica per... Meglio che resti a mare, dove vai? E niente, il fatto è che erano troppe, non erano solo dieci, invece scorro che non sapete il premio dell'agrovia, premio dell'agritica, premio dell'agritica, premio dell'agritica. Stanno i vanigini, vanigini, premio della giuria per un goglio non serve, malafosto di postiglio. Stanno i vanigini, come si scrive, ma non si può fare un po' di postiglio, certo? Brava. Poi, vabbè, ricordiamoci... No, no, adesso lo sento io. È solo quella regola. Come si scrive l'algo e l'alto? La verifica per dopo, così vi ricordate. E questo, non c'è. Di a po', il posto sarebbe un film più lungo che c'è in Italia, per chi non lo sapesse. Non si scrive con la posto, forse no, si è andato un po', un po', no? E guardate che fatta la differenza, guardate qua. No, ieri sera ho bevuto un po' di birra con la posto, forse significa che ne hai bevuto un po', 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 un po'. Ma se tu togli la posto, puoi subito a noi manco lì. E subito ricordo... Perché... Fegato soffre. Fegato soffre. Questa è la migliore cartone d'amore. Tuo marito ti trascura a lento. Chiamami, allora ve lo dico, il numero c'era, so, non c'è, eh? Io lo posso vedere, ma se qualcuno si sente attratto, mi chiede il numero che lo dico, eh? Mi chiede l'ascurata a lento. E adesso andiamo con questo fuori concorso. Adesso è una presentatrice famosa, in Italia, di scrivere. Posso dire, a gran voce, sentate me le smentivole. Io non ho detto, mai! Su altro... Né, sui... Né, sui... Né, sui... Né, sui... Né, sui... Né, sui... Mai. Né, sui... vengale sa come si scrive va bene allora pronti perché adesso si va con la verifica è il nostro momento e l'altro giusto fare un ripassino dai le ultime cose veloci ricordatevi quando ho dato un ordine di qualcosa d'acqua eccetera quando vuoi dare un ordine a qualcuno di mettere l'apostrofo fate una foto mentale alla maglia cognitiva e poi questa vabbè come si scrivono queste fragiche posso chiedere ma si chiede superfavori a tenere il contro delle risultatemi delle risposte giuste di questa sala va bene ogni risposta esatta fare due punti, tutto qua, non devi fare altro ma, vai come funziona? Io vi faccio vedere una diapositiva con tre soluzioni, per l'alzata di mano, voi direte A, B e C ok? Che faccio? Guardate per esempio qua, no? Come si scrive un albero, si scrive senza porta, poi la porta, poi pure le trambi, va bene, va bene, va bene ma va ancora a chiedere risposta? Allora, alzi la mano, chi pensa sia giusta la A avete fatto la O l'avete fatta prima a questa zona ho alzato la mano e con tutti quanti certo mi ricordo che eri anche questo segno è giusto però è giusto è giusto wow alzate la mano per l'alto va bene va bene è giusto agli atto con la seconda domanda alza la mano la A no, voi siete convinti che ci sta ma no, no, non indicherò, non indicherò nessuno c'è qualcuno in questa bellissima sala e ha fatto così io indicavo il soffitto poi poi alzi la mano la B adesso e la C per curiosità c'è una minoranza che non ha fatto però la maggioranza ha fatto giusto quindi segna si va per maggioranza bravo Max la risposta giusta naturalmente è la B senza apostrofo no, ma scusa sei qua per imparare ma vai tra il pubbillo perché sul qual è ci cascano tutti qual è? no, no e tranquilli sempre la stessa persona che la scusa non la indico però alzi la mano la B e per curiosità la C questa faremo come a scuola motiva la tua risposta panico no perché ho alzato la mano? perché va brava perché potrebbe essere terza persona singolare brava quindi ella va con calma ok c'è il punto esclamativo alla fine che è un po' no ella va con calma però dai ci sta quando me Max vista anche il fatto che la lingua insomma io dai tre minuti per questa perché c'è una persona in questa sala che ha avuto questa inquinzione tre punti ok Max mi raccomando alzi la mano la A alzi la mano la B alzi la mano la C figlio mio che bello figlio mio che bello che ti voglio è il tuo figlio è che questi gesti di affetto spontanei che arrivano così è bello è bello ok giusto anche questa perché la maggioranza ha fatto giusto ultima una domanda tra bocchetti fatemela a parte una un tra bocchettino guarda qua si scrive un atleta un atleta oppure una persona che pratica sport all'italiano l'unico piuttosto consumo la penna ma C non interessa alzi la mano la A la B e naturalmente la C bravo un atleta femmina con l'apostrofo senza maschio e invece guarda tre punti anche qua Max quanto abbiamo fatto? 12 12? avete fatto un record di tutto il tour un record europeo di questo profondo è proprio vero che ci scrisse sopra una poesia questa qua l'asco di gamba c'era una volta urlato e uno scolato un passo male un passo male un piccolo apostrofo lo trasformò in a oh guarda la gente diceva l'ago di gamba un'ago importante insegnante perfino sulla grande grazie bene c'è sempre questo momento no? e che insegnante? e che è quello in sedia qua? vediamo sulle mani colleghi voi sapete e invece chi è genitore? questa cosa che sta per fare è per entrambi queste categorie insegnanti e genitori perché c'è un momento da noi di settimana alle due settimane c'è il colloquio genitori no? ci si incontra con da di noi e ho provato a immaginare abbiamo provato a immaginare cosa succederebbe se gli insegnanti potessero parlare in libertà e dire esattamente quello che bene sanno quando c'è il colloquio genitori ecco salteremo fuori io dirò la frase quella che diciamo normalmente parlo fa traduzione guardi suo figlio è un po' chiacchierone suo figlio non sta zitto un secondo si sente ovunque peggio di radio Maria ma dove si trova il tasto spegni tuo figlio è intelligente ma vede suo figlio avrebbe anche la testa ma è solo che l'uno ha proprio voglia di fare un c***o vieni 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 sa in questo compito il suo figlio ha fatto qualche piccolo errore vede quando ho visto il compito di suo figlio volevo sparare anzi volevo sparare a lui il suo figlio è un ragazzo un po' vivace mi scusi signora ma non avete mai pensato di rivolgere un esorcista in italiano devo rilevare qualche leggera difficoltà da parte di suo figlio mi scusi signora ma lei come comunica con suo figlio a gesti nero le ultime due settimane suo figlio è stato un po' discontinuo nello svolgimento dei compiti ma io non voglio dire che suo figlio non ha proprio voglia di fare un niente ma solo perché gli farei un complimento e da ultima questa è rara ma capita quando capita sempre un bel momento suo figlio è molto bravo studioso gentile ed educato per favore signora posso adottare suo figlio le prometto che lo tratterò bene grazie se volete rispondere con la stessa cosa fatta dai genitori se non essero dire i genitori quello che pensano ci starebbe secondo me allora la etica la etica sarebbe che chiamiamo così mitologia no se lo studiò la mitologia cos'è la mitologia non la fate tanto qua mi hanno delle forse soprattutto quella greca ma il bello non si fa tanto il bello della mitologia è che sono storie che tutti possono capire anche i bambini e quindi anche se non le conoscete le possiamo raccontare infatti viene da questa parola che è smutos in greco mutus capite cosa vuol dire? vuol dire favola che ti dice la verità favola che ti dice la verità sì perché? perché per gli antichi non era cioè non avevano sui libri di scienze loro per vedere cascavano i fulmi per esempio no? cosa dicevano? è stato Zeus che ha lanciato uno una una folgore oppure quando ti innamoravi cos'era? era una reazione biochimica all'interno del tuo corpo? no era un tipido eros con una freccia che si focava che colpiva il cuore quindi adesso non so se voi qua in Germania sapete però ecco diciamo che la mitologia è fondamentalmente lo studio di polvo qualcuno c'è qualcuno c'è sulla cima dell'Olimpo c'è una magica città gli abitanti dell'Olimpo sono le divinità poi lì c'è una bambina che ancora è un'è è graziosa e mi vecchina poi non è il suo nome poi vi ricordate che diceva con la frase un po' ambigua sembra talco umano ma cos'è cos'è come vuole vedere vuole vedere vuole vedere vuole vedere vuole vedere vuole vedere perché non l'avrei visto questo leggero riferimento vabbè è meglio non ripeto certe cose il registro era un certo Pablo scubato colombiano sì vabbè anche noi oggi non abbiamo limiti ma da chi andiamo non abbiamo le grandi domande sull'esistenza sulla vita da chi andiamo brava è qua che creiamo noi allora ho venuto a fare un esperimento scientifico chiedere a Google quello che un tipo greco avrebbe chiesto a un mito ma c'era un problema tu sai su Google inizi a scrivere la tua domandina no? anche col greco come si fa per esempio la mia domanda è la sua domandona e per chi è giovane ma anche chi no è una bella domanda cioè come si fa a inseguire il sogno va bene ho iniziato a scrivere come si fa a Google mi ha suggerito come si fa a trovare una casa come si fa a dimagrire una settimana beh tutto è interessante come si fa a diventare io beh questa la porta come si fa a sesta a Google lo voglio chiedere come si fa una porta con una forcina ma la sesta lì ti lascia veramente soffrite eh quando fai soffrite non so liberatore cosa anzi liberatore liberatore osabile si fa baciare con la lingua fa smettere il ciclo a fidanzarsi nessie poche sicuramente non è facile a volte ma la sei dentro e l'ultima come si fa a stalkerare qualcuno su Instagram non so sapete cosa è stalkerare stalkerare significa a vedere i cavoli degli altri ma per farci scoprire no quindi pesazzo e allora niente chiedere a Google il mio servizio andiamo di nuovo a chiederlo a un mito e per raccontare questo mito come si fa in seguito un sogno partirà da questo bellissimo disegno qui è proprio il senso dei figli qua dentro guardate che bello guardate la casa che bene che l'ha fatta questo bambino bambino di 5 anni non sono io in un disegno così bello neanche oggi vedete che la casa è anche più bassa della mamma la mamma è pepinata bellissimo si vede quando mora una serie di humor sembra Jenny Savastano che il canutista pronto a farsi sciogliere dal sole a un metro dal sole dai gli ho detto i miti li possono capire anche i bambini infatti comincia così c'era una volta un re c'era una volta un re ma un re cattivo molto cattivo di quelli che ti lasciavano zero libertà si chiamava Minosse era il re di Creta e il suo popolo lo voleva mandare via ma lui aveva idea io trarrò il potere con la paura farò paura al mio popolo così loro staranno con me e per farlo si alleva con il dio del mare Poseidò eccolo qua e allo solo sta foto questo è il primo b Poseidò il dio del mare questo è il patto che fanno loro due allora tu vai lì sulla spiaggia dice Poseidò e a Minosse parli al tuo popolo e gli dici adesso silenzio o se no farò uscire un toro gigante dal mare e naturalmente la gente non fa silenzio ma poi Minosse grazie a Poseidò fa uscire questo toro gigante dal mare un toro bianico bellissimo tutti si spaventano no mi dicono sì sì Minosse perché pensano che abbia poteri magici e così riesce a tenere il potere ma doveva fare una cosa Minosse finita la scena doveva prendere il toro sacrificarlo a Poseidò ma lui non lo fa lui non lo fa e Poseidò si arrabbia e si vuole vendicato per vendicarsi chiede aiuto a lui che si chiama Dedalo ora spiegare chi è Dedalo è un po' difficile diciamo il più grande inventore dei tempi antichi fate finta di vedere nella stessa persona lui Tony Stark con dentro Elon Musk ok e l'ultimo non so cosa è della mia età sanno cos'è l'ultimo è lui momento boomer lo dico perché chi è piccolo chi non ha mai visto questa serie in Italia Tom McGyver era uno che gli dare una graffetta una banana un foglio di carta di costruire un fucile sapeva uscire dai guai mettendo insieme tutto quello che trovava e riusciva a costruire questi martingelli meravigliosi ogni volta si cavavano fuori dai guai McGyver allora Poseidone e Dedalo preparano uno scherzo a Minosse lo scherzo eccolo qua questo è il loro quella di cui si distravede è la moglie di Minosse il trucco è far innamorare la moglie di Minosse che si chiama Pasife farla innamorare anche il tono un momento di gelo adesso il suo secondo lo dico e Dedalo che costruisce un toro meccanico fermina finto dove puoi far andare Pasife a Dedalo il toro ok il gelo continua vabbè è molto semplice dopo nove mesi non mi sa mai dopo nove mesi nasce il prodotto di questa unione così fra toro e Pasifae Toro e Pasifae il Minotauro un mostro orribile con la testa la toro il corpo da un uomo noi lo vediamo così questa immagine in realtà così fa paura Minotauro sperava di essere papà e ringrazia questo cosetto ma poi si ritrova questo mostro e lo butta via schifato e allora ecco la vendetta di Minotauro che chiude il prigione Dedalo ma Dedalo è Megayra Dedalo gli dà le due cosette che costruisce infatti insieme al figlio Icaro costruiscono un paio d'ali due paio di con la cera delle candele il bronzo e cera del bronzo per terra delle corde fanno delle ali bellissime diciamo che Icaro e Dedalo volano via escono dalla prigione e scappano e qua come si fa a inseguire i sogni e qua la risposta perché Icaro ha 15-16 anni giovani vede l'oceano sotto si punta giù proprio in picchiata e va a fare surf e papà dall'altro vieni qua ma papà vieni su che a volare troppo basso rischi di morire ma perché papà il bronzo si arruggi lì e grita ma volentieri torna su ma quando torna su vede che c'è anche un sacco di cielo in alto e allora prima ha dato in picchiata in basso adesso va in picchiata in alto e da sotto suo papà ma cosa dici papà la cera eh la cera il sole fa il tempo a finire di dirglielo la cera si scioglie ma 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 icaro precipita giù perché le ali si tolgono dalla sua schiena e si sfracella contro l'oceano e muore qui dentro c'è la risposta come si fa in sembrano sogno sì perché questa storia sono 2.500 anni che la raccontano per dire ai bambini ai ragazzi non volare troppo alto eh non rischiare che se no fai come icaro ti bruci è pericoloso e si dimentica lo sai di dirci che all'inizio l'errore era stato volare troppo basso quanti sogni si buttano via perché vogliamo volare bassi vogliamo stare tranquilli non vogliamo farci male ma poi arriva la ruggine ci toglie le ali la ruggine la seconda cosa il volare troppo alto è vero erano troppo vicino al sole ma l'errore suo è stato andare così in alto forse no forse l'errore suo è stato non poteva andare di notte non poteva scegliere un altro momento non poteva aspettare di avere delle ali migliori per volare qui in alto guardate qua questo anche se non sembra è uno dei romanzi più letti nella storia si sono intitolati i fratelli Karamazov di Dostoevsky e questa è la brutta copia provate solo a immaginarvi quanta gente vedendo sto foglio avrà detto a Dostoevsky ah Fiodor si chiama Fiodor si chiama Fiodor ma dove va è un vola più basso ma che si deve andare questa roba qua romanzi più letto oppure queste le prime sette lampadine superstiti dopo dodicimila esperimenti di Thomas Edison dodicimila lampadine scoppiate finatevi alla millesima lampadina scoppiata quanti avranno detto a Thomas Edison ah Thomas dove vai? vola più basso dai pensi di fare la luce con l'elettricità ma sei nato farla con l'olio come la fanno tutti dai su è questa una delle prime bottigliette di Coca-Cola primo anno quanti esemplari venduti? 24 primo anno di produzione della Coca-Cola 24 bottigliette vendute chissà quanti dal pizzo della Coca-Cola gli avrà detto dai fai qualcos'altro l'errore qual era stato in quel caso? le vendeva in farmacia solo lì come digestivo effettivamente funziona il digestivo però l'anno dopo decide di cambiare le ali venderle anche fuori portarle anche nei chioschetti della strada oggi la bevanda più vendita nella storia e ora torniamo al nostro disegno reale autentico disegno fatto da un bambino di 5 anni più di 40 anni fa quello stesso bambino continuava a dire a tutti per questo che ha fatto un disegno io da grande andrò su nello spazio nello spazio andrò e quando saleva su mi butterò giù col paracadute si chiama Felix questo bambino Felix dai fai come tutti vola a basso sull'aereo e poi ti metti giù passano 40 anni e quel bambino cresce lo stesso bambino del disegno e quello che fa lo stacolo grazie Perfetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu freghi vivendo il casino che fanno, freghi col silenzio, ti odieranno e tu fregali. Tu dagli amore contro e che dentro il rancore ti vuole immerso per solo freghi respirando la bellezza dell'adesso. Ma guarda su, in alto mezzo il cielo, contro, 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 ogni volare basso. Fai battere quel cuore, mettiti presto in salo da tutto questo elettrocardiogramma piatto. E non ascoltare quelli che non vedono il miracolo, che scappano dal binico. Senza un lato comico, per loro tutto ha un prezzo, pure trovo un modico e gli occhi tuoi non parlano. È il cuore solo muscolo, cerca il caldo e il freddo, non cercare il tiepido. E se davvero hai un sogno, corri vai a prenderlo. Che forse della vita non sono molto pratico, ma una cosa non capita. Che basta sempre un attimo. Che basta sempre un attimo, basta sempre un attimo. Che forse della vita non sono molto pratico, ma una cosa non capita. Che basta sempre un attimo. Una la la la... La, 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 la La, 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 la La, la, la Ha! Applausi Grazie. Allora la nostra lezione di oggi sarà su queste due immagini, la prima è questa e la seconda è questa, so che non sembra ma sono la stessa foto, questa e questa, sono la stessa identifica foto e vedremo adesso perché partendo al settembre del 77 l'anno in cui sono nato io, sì, sono abbastanza anziano, settembre del 77 si sente in incontro alla rovescia una voce che dice 10, 9, 8, 7, 7, 5, 4, 3, 2, 1, viene sparato sullo spazio, lo spazio un'astronava ma dentro non ci sono uomini, donne, cani, figli né, c'è questa cosa qua, chiama sonda spaziale Voyager, perché ve la faccio vedere? Perché è l'oggetto ancora oggi costruito dall'uomo più lontano dalla terra, cioè sta ancora andando, 40, 90 anni fa e sta ancora andando, tanto che è arrivato a questa distanza, ben 22 ore da qui. Cos'è un'ora lucida? Cos'è un'ora lucida? Aspetta gente che cerca cose nello zaino, anche se non avevano zaino. Cos'è un'ora lucida? Capito solo, no, va bene. Sì. Ah, sono tantissima, va bene, non bastava vedere la distanza, percorso dalla luce in un'ora, mi accontentavi. Va benissimo, infatti sono 23 miliardi di chilometri. Voyager sta ancora andando ed è a 23 miliardi di chilometri e nel 1990 questo signore qua ebbe un'idea, un'idea semplicissima ma geniale, dire a Voyager che ti recomando di fare questo movimento qua, fare una foto ma non fuori, verso lo spazio, fare una foto all'indietro verso di noi, più si immaginava sarebbe venuto fuori una cosa tipo così, sai, foto di famiglia tutti in ordine precisi, in realtà i miei freghi erano 14 miliardi di chilometri all'epoca non è che poter venire fuori tanto bene, infatti il risultato è questo, eccolo qua, vedete? Eh, sul puntino lì, siamo noi, quella lì è la terra, se guardate bene vedete che il fiume è Reno, il Po con la Po, tutte e due. La cosa stupefacente è perché Scarsagan si chiamava con quel signore, era uno scienziato, mi stavano pazzesco, vedendo questa foto rimase a bocca aperta, chiese una penna, per favore una penna e di corsa così su un blocchetto scrisse queste parole, le vorrei tanto leggere perché sembrano scritte stamattina, non scritte nel 1990 ma sembra che Scarsagan le abbia presa stamattina perché parlano di noi, ci descrivono noi oggi, infatti dice, da questo distante punto di osservazione la terra può non sembrare in particolare interesse, ma guardate ancora quel puntino, è qui, è casa, è noi, su di esso ci sono tutti quelli che amate, tutti quelli che conoscete anzi, tutti quelli che hanno mai vissuto sono stati qui, e dentro c'è l'insieme delle nostre gioie e dolori, e migliaia di religioni poi, e ideologie, tutti così sicuri di sé, dai cacciatori e raccognitori fino ai creatori e istruttori di civiltà, dai re ai plebè, ogni comandante supremo, con virgolente, e la storia della nostra specie è vissuto lì, in quel minuscolo granario di tolvere sospeso sopra un raggio di sole, e adesso arriva la parte che è scritta stamattina, pensate ai fiumi di sangue, tutti quei fiumi di sangue versati da quei generali e imperatori affinché nella gloria e anche un po' potessero diventare per un momento padroni di cosa? Di una frazione di un puntino? Pensate a quelle crudeltà, a tutte le nostre ostentazioni, possono farci vedere l'illusione di avere una qualche posizione privilegiata nell'universo, e tutto messo in discussione a quel punto di luce pallina finale. Per me questa foto sottolinea la nostra responsabilità di occuparci l'uno e l'altro con più gentilezza, di far impazzire che uno scienziato scriva gentilezza, di preservarlo e proteggerlo con il pallino e il blu, perché è l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Ed eccola, questa foto è l'esatta riproduzione di come una formica vede il mondo. Questo è il punto di vista di una formica che vede il mondo così. Queste due foto, secondo me voi dovreste, dopo, se avete tempo, stamparle, e poi le appendete alla figura popolata. Perché vi devono servire, tipo promemoria, ogni giorno ricordare di queste tre cose qui. La prima, è vero, ci sarà sempre un punto di vista che non hai mai considerato, mai considerato il punto di vista della formica. Tu che pensi di addirittura tutto, c'è sempre un punto del mondo da cui tu non puoi sapere niente. Seconda cosa, è vero, è vero. Siamo un piccolo pallino bruttino buttato lì, in mezzo all'universo. Però, quanto sappiamo essere grandi? È la terza, la più importante. Guardate, guardate quanta meraviglia c'è qua dentro. Il mondo, la vita è piena di meraviglia. E allora, ecco la nostra responsabilità. Occuparci l'uno dell'altro con più gentilezza, preservarlo e proteggerlo con il pallino blu, perché è l'unica casa che abbiamo mai conosciuto. Si sa stare a sognare i più bei sogni e da un pezzo abituato, sa sperare l'impossibile anche quando è disperato. Orche i sogni e le speranze si fanno veri come fiori. Sulla luna e sulla terra fate largo ai sogni e le speranze si fanno veri come fiori. Sulla luna e sulla terra fate largo ai sogni e le speranze si fanno veri come fiori. Questa era di Gianni Rodari e si è titolato sulla luna con musica in spazio. A portarci al pomeriggio. E' già ora? Allora, ti eravamo letti, ti ricordi, no? Università, siamo all'estero poi, una serie di non facciano ci riconoscere, Pablo, lo stai chiesto? Perché Pablo porta queste canzoni nel teatro? Ma scusa, ma se non mi faccio riconoscere all'estero, lontano da casa, qua? Porta queste canzoni nel teatro che ci lascia un po' andare, diciamo, prendi un po' la mano. Allora, se è vero, io scrivo delle canzoni, sai che il nostro è un paese dove il linguaggio un po' scurrile non è un grosso problema, proprio dal Parlamento fino anche nelle classi magari tu me lo dici, insomma, allora via prende le canzoni divertenti, insomma, che però effettivamente, non lo so, possiamo trovare un compromesso, cioè... che qui al massimo sanno l'inglese, l'italiano... Sì, ma voi puoi cantare in lingua? No, posso tradurla istantaneamente in un'altra lingua che loro conoscono, quindi... se non avevo un'idea... In lingua però... Tipo, non so, non conoscete il portoghese, immagino... Il portoghese no, da... Lo spagnolo? Beh, lui, sì... Però siamo adulti, quindi... Allora, facciamo qui, vi racconto un po' la storia della mia vita, io mi chiamo Pablo, sapete perché? Perché mia mamma era una fan di un noto narcotrafficante colombiano... No, mia madre di Siviglia è andalusa, è venuta in Italia in realtà molto presto, però... Ci è capitato molto spesso, soprattutto in gioventù, di andare in questa bellissima città, a trovare, insomma, i miei parenti... Una cosa che mi ha sempre molto stupito, insomma, al di là della bellezza monumentale, per una città ricchissima di tradizioni, sapete cos'è di Siviglia? Sono le epigrafi... Non so... Sapete cosa sono le epigrafi? Per bambini forse no... L'epigrafi sono dei manifesti che si attaccano nei muri per annunciare la scomparsa di qualcuno. Qualcosa che se la usi non la vedi, insomma, l'epigrafi. E vi dico, vi spiego anche il motivo, perché in Spagna, soprattutto al sud, in Andalusia, hanno questa usanza di dare sempre dei nomi molto lunghi. Cioè, ad esempio, lì come minimo hai il primo nome, il secondo nome, che può essere il nome del nonno, ed entrambi i cognomi, quindi io lì sarei Pablo Emilio, perché si è noto Sanchez. Ma il bello è, soprattutto in Andalusia, che se poi uno muore, è vero, lì proprio... Si si sbizzarisce, perché si mette dentro il primo nome, il secondo nome, il terzo nome, il cognome del padre, della madre, dell'elettrauto di fiducia, del meccanico di fiducia, del vero padre del figlio, che a volte è il meccanico di fiducia. Cioè, perché si ha questa tendenza nel pensare che dando tanti nomi aumenti il prestigio del defunto. Allora, andiamo a guardare in questa città, vedendo questi epigrafi assurdi, con questi nomi lunghissimi, e mi sono sempre detto, ammazza, ma che nomi lunghi che hanno gli spagnoli defunti nelle epigrafi a Siviglia. E ho scritto questa canzone che si chiama Ammazza, ma che nomi lunghi che hanno gli spagnoli defunti e scusate, non ho molta fantasia nei nomi. Adesso ve la racconto, fa più o meno così. Io sono di Siviglia e mi chiamo il bambino Prisciotto Sánchez della Maria Magra in Coronato del Bollo, Mantequilla, Sandia, Bocadillo, Lecce, Javier de Astor Gavio, García Ma al giorno al mercato di Siviglia ho comprato un toro e mi ha costato molto, 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 molto di nero, ma non ha avansato la prima, perché è un toro da montare. Ma ho già un bel recinto, ma ne ha curata bene, ma adesso mi distranno un attimo e per togliare la storia, e in forno e ho detto E allora, posso così? Ma scusa, attitude, provo ai finali del Centro dei solo amici al meglio, tu Pablo, Emilio, tutti gli resti right. E io non le ricordo, era un nome molto lungo. I tuoi amici avranno un modo un po' più... Allora, io a Sivilla mi chiamo Paolo Emilio Presenotto Sanse della Mane Magra in Grota e poi la Mantiglia Santia, poi io lecce a Gabbia Nestor... Altrimenti non mi giro proprio, cioè non... Però per gli amici c'è l'appreviativo che è Paolo Emilio Presenotto Sanse della Mane Magra in Grota e poi io lecce a Gabbia Nestor Gabbia del Garcì C'è tolgo la africa Va bene, ringrazio, andiamo alla quarta ora che è difficile, vero? Perché prendere una classe dopo l'intervallo è dura, eh? Le ore migliori sono le prime ore perché dormono e tu hai l'illusione che ti stiano ascoltando mi dici, bravo che sono, guarda che silenziosi però dopo l'intervallo è dura perché questi sono un po' agitativi, come dire? Questo mi ricorda la mia prima esperienza di te insegnando bellissima, bellissima Sì, perché io ero cresciuto col mito dell'attimo fuggente sto film dove il professore entra in classe e sale in piedi sopra la cattedra guardate, mamma, 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 non tu che mi sto e tutti gli studenti con gli occhi a cuoricino che lo guardano così anche io voglio fare la stessa cosa quando sarò in sedia anche io salirei in piedi sopra la cattedra peccato che trascurare il fatto che mi è andata una seconda media quindi tredici anni una bellissima fase della vita, vero? molto tranquilla, giusto? eh, supplente come fate voi studenti quando mi dicono che c'è supplenza? che non c'è il professore, che ce n'è un altro? come reagite di solito? molto felici per non dire pochi d'artificio proprio e niente, arrivo in classe e li trovo già pronti loro sopra i banchi già, già, già al posto in piedi lì, che giocavano a fare la lotta e uno si lanciava sopra l'altro dal banco col gomodo così e io ero al posto al posto, seduti e nessuno mi ascolta benessi niente, zero e allora pensa, pensa, pensa come facevano i tuoi prof? come facevano i tuoi prof? c'era la frase magica adesso io uscirò da quella porta e quando rientrerò vi voglio vedere tutti seduti eh tutti in silenzio va bene prof? esco provo a rientrare ma non ci riesco perché mi hanno sbarrato la porta e dietro mi sentivo ridere chiedilo fuori, chiedilo fuori quindi è difficile partire dopo la ricreazione, vedete? ma io voglio tentare un esperimento con voi una cosa seria e fare una bella lezione di storia anche di livello alto giusti schiaffo giusti schiaffo giusti schiaffo giusti schiaffo giusti schiaffo faremo la storia di un oggetto che vi ha cambiato la vita siete pronti? eccola qua Doria è vero è un oggetto che ci cambia tutt'oggi le vite e me lo dimostrerò me lo dimostrerò partendo dalla parola italiano volgare come si dice questo oggetto? ma lo sappiamo gli italiani bravi certo e gli dice ma da dove viene il cesto? perché si dice così? perché in latino se cesum distante separato lontano così vi do anche una risposta quando arriva il simpaticone di turno no? a scuola guardati se cesum vero? adesso avete una risposta può essere ma perché voglio stare distante da te ecco 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 130 so che non si direbbe ma sono grammi sì sono i grammi che producete tutti voi che anche in media ogni giorno non chiedetemi come hanno fatto ad avere questo numero gli scienziati ma ci sono arrivati 130 grammi di media poi io dopo Natale scusate un po' 15 c'è il gioco 31 vede che c'è qualche mente matematica qua hai già fatto il calcolo eri già andato 130 per 7 miliardi che siamo erotti quanti? quanta roba ogni giorno? ogni giorno ogni giorno gli esseri umani fanno ne facciamo eh ne facciamo capite perché è importante questo oggetto che prezioso pronti a vedere adesso un oggetto veramente archeologico il primo water della storia siete pronti? eccolo per migliaia di anni l'abbiamo fatta così scavare mucche per terra farla dentro e in storia si guardano sempre le fonti storiche qual è la nostra fonte che ci ha detto che la facevamo così? la bibbia è scritto sulla bibbia avrai un piove il tuo bagaglio immaginatela così col dito così il signore che ti parla così e con esso scaverai come ti accobaccerai fuori quindi ti volgerai e ha detto prima di scavengersi però un po' più gentile smeriti comunque perché il signore tuo dio si muove in mezzo all'accampamento e non deve vedere te adesso un po' di privacy un po' schifo no eh vabbè e niente il signore invece è lì pronto a dirti eh come si fa ma poi dopo finalmente ci siamo attrezzati in due luoghi lontanissimi della guerra qui si chiamano scarabrai parliamo del 5000 a.C. che è contemporaneamente in Cina dove hanno costruito tocco e e facile non si capisce subito l'attenzione vero? infatti in Cina che è andato ha detto farla fuori dal vaso perché tu arrivi non sai come funziona e devi farla fuori dal vaso ma 3000 vaticisti su me mettiamo il bagno in casa primo bagno in casa della storia due tavolette lì c'è una specie di canaletto che porta fuori va in strada poi si sono sofisticati molte che una roba poi questo io lo vorrei non si lo vorrei che lo puoi montare da solo ma il problema è che il canaletto andava in strada a cielo aperto come voi avete visto i canaletti qua che passano loro però li usavano per trascorrere io tu uscivi con la fidanzata per un appuntamento tesoro come sei bello e ti passava il meglio non era proprio romantissimo ma andiamo adesso vabbè c'è nei vostri video di storia questa frase le grandi civiltà vicino ai crossi d'acqua e tu alzavi la mano maestra perché? per i traffici commerciali solo per quello per irrigare i campi ma nessuno vi ha mai detto che la vera ragione è che c'era e che i chili di cacca la smaltiglia ed eccoci gli italiani sempre un passo avanti eh gli antichi romani si inventano il cesso pubblico la prima latrina pubblica si chiamava ed era un evento importante eh tanto lo portano fuori casa qui tu sei l'inverso sei lì in casa ti passeggi ti tirano stimolo e scappi fuori di casa ma perché devi farla che tutti insieme ci si trovavano in questa latrina pubblica ma veramente si facevano anche decisioni si discenteva grandi discorsi si facevano vabbè alcune erano un po' delle cagate scusate questa signora università comunque tutto poi andava a confluire sulla grande il grande sistema fognario della coaca massimo avevo guardate che bello che è importante imponente ma si sa cade di pello domani come si fa chi è che ha i soldi per fare questi sistemi qua e per mille anni come l'abbiamo fatta per mille anni tararada per mille anni la facevi dentro una tazza andavi alla finestra aspettavi che passasse il vicino di casa l'abbiamo fatta e poi l'abbiamo fatta la finestra mille anni parli della tazza così i nobili su una tazza un po' più lunga un esempio invece di un esperimento di Leonardo bello molto bello il problema è che la faccia che dopo può stare volando e quindi erano tre nomi adesso ai quali vorrete molto bene questi tre nomi essi non li conoscete ma da a 10 minuti cuoricini cuoricini per loro il primo è lui John Harrington l'inventore del primo prototipo di bagno come lo conosciamo oggi con un sistema a risciacquo fatta dell'acqua giù dentro una fognatura comune con un sistema ad punto idraulico perfezionato poi ancora di più da lui Alexander Cummings secondo nome che si inventa il sifone a essere così la puzza non si sente ma il terzo nome il terzo nome lo adorerete eccolo qua scusate come si dice cacca in inglese crap crap brava in senso volgaico come merda la roba lì lì non ci crederete ma l'inventore del bagno come noi ancora oggi lo usiamo si chiama Thomas Crapper Tommaso Merda ci ha pensato ha costruito il prototipo anche oggi voi lo usate così eh il crap voi lo usate un crap anche se non lo sapete ultima cosa per quanto il futuro dai come la faremo fra cento anni su spazio tutti quanti lo faccio scorrere veloce perché fa un po' impressione ha fatto vedere Samantha su un tiktok eh l'avete visto? come la fanno? con l'aspirapolvere perché eh scusate fine comunque ti resta male ti resta male perché comunque perché secessum perché lontano perché lo scopre lui nel 1860 scopre che dentro la nostra cacca in quei pochi 130 grammi ci sono tre batteri letali velenosissimi pericolosissimi colera salmonella genera sono mortali è importantissimo saperlo perché l'organizzazione mondiale della sanità pochi anni fa ha fatto una classifica quali sono le invenzioni dell'uomo che hanno permesso di salvare più vite e le prime tre vaccini antibiotici è Tommaso merda lì è la prima il primo posto fra tutte l'invenzione che salva più vite umane è il vater senza il vater senza il vater infatti oggi siamo con quanti 7 miliardi e 4 7 miliardi e 3 un terzo della popolazione mondiale non ha la possibilità di utilizzare un vater come usiamo noi nelle nostre case normalmente e il terzo vuol dire più di 2 miliardi di persone che vuol dire questo numero tremendo qui 800.000 bambini sotto i 10 anni che ogni anno muoiono di colera salmonella figella e altre malattie in lotte da non poter fare una cacca in un vater prima la facciamo noi e questo quindi per dirvi che sì abbiamo riso un po' la storia del cesso avevo fatto però questo numero qua nel 2022 è proprio un eccesso di storia che a questo mondo noi noi siamo tutti uguali ma quando entrava in classe direttore tu ci facevi alzare tutti quanti in piedi e quando entrava in classe direttore ci permettevi di rimanere seduti mi ho buon curato dicevi che la chiesa è la casa dei poveri della povera gente della povera gente però è rivestito la tua chiesa con tende d'oro e marmi colorati come poco povero che entra a sentirsi come fosse a casa su fosse a casa su a egregio sindaco mi hanno detto che un giorno tu gridavi alla gente vincere o morire ora vorrei sapere come mai tu vinto non hai eppure non sei morto e al posto tuo è morta tanta gente che non voleva vincere né morire quindi questo era amici tempo in gara maestra tempo e questo era amici tempo l'ultima ora dai sbagliati prete serifido vabbè dante sa che non si conosce forse tanto qua da noi è tipo materia obbligatoria della terza alla quinta superiore si fa anche alle medie in realtà e quindi trasendolo anche alle medie capita molto spesso che nei compiti classi ti scrivono delle cose un po' strane tra le cento che avevo una per voi sapete che dante si perde in una selva oscura all'inizio dell'inferno un bosco una selva oscura e il mio studente driss mi seconda media qualche anno fa però scrisse che dante non si era perso in una selva oscura ormai un anno strani che aveva tante eh vabbè comunque anche la divina commedia può essere un posto dove cercare delle grandi domande le grandi risposte grandi domande la mia mi sto facendo da un po' ecco che ormai il mondo va così male no? e nella divina commedia c'è la risposta adesso un minuto se volete che non lo metrattelo vi faccio il riassunto la divina commedia in un minuto ci voglio provare è così eh un dante che all'inizio dell'inferno si perde in una selva oscura va bene e non sa dove andare è persa allora arriva lui arriva erigilio vieni con me ti portami fuori mi seguimi e lo porta attraverso l'ho intretto ma all'inferno giù su sottoterra per poi sbucare fuori dall'altra parte sulla montagna del purgatorio ma a quel punto lui se ne deve andare arriva lei dice grazie che Dante è amato per una vita anche se è l'ele al massimo da salutare sei volte mi ha detto sei e lei ha fatto così per tre volte alla quarta non lo ha salutato perché lui era scritta la cosia per un'altra sera offesa poi dopo lui ha chiesto scusa lei l'ha salutato altre due volte poi è volta fine gli studenti italiani dicono potremmo fare a meno di salutarla così salutarla così va bene lo porta su 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 fino in paradiso per andare a incontrare Dio ma prima di incontrare Dio incontrano questo signore qua Carlo Martello si chiamava e qua si la domanda perché glielo chiede a Carlo Martello nel cielo di venere Carlo Martello risponde così sempre natura se fortuna trova discorde a sé come ogni altra semente fuori di sua regione fa mala prova e se il mondo laggiù con le semente al fondamento che natura pone seguendo lui avria buona la gente fate sì con la testa che avete capito tutto no eh non ci parlate ma spiego meglio eh si decisamente ma è facile è facile Carlo Martello dice due grandi forze nel fondo la natura è la fortuna la natura non è i ragni gli alberi no la natura è la tua natura quel qualcosa che ti rende unico nell'universo la fortuna è dove capiti il periodo storico in cui nasci la famiglia in cui nasci nasce a Friburgo invece che a casamenti su re insomma no dove nasci dove arrivi è la tua fortuna e usa un'immagine semplicissima la natura è il seme la fortuna è la terra se tu butti questo seme in una terra che non è la sua che non va bene per lui farà male a prova farà male a pianta verrà su verrà su bene è per quello che va così male il mondo perché voi non lo dice ma secondo me lo pensa voi stupidi esseri umani cosa fate? non rispettate la vostra natura fate sì che vi buttino in una terra dice uno che dovrebbe fare il prete lo vedete a fare il soldato uno che dovrebbe fare il soldato lo vedete a fare il prete quanti di noi quanti di voi sono lì che non rispettano la propria natura se ne dimenticano pensano di essere delle persone qualunque di non avere niente di speciale e invece no lui ti sta dicendo no ce l'hai sta cosa ce l'abbiamo tutti dove ti ho messo una ragione? grazie guardate qua questa l'ha fatta Michelangelo a 21 anni mi riusciò di freddi a pensare che hai fatto questa cosa a 21 anni si chiama la pietà la scultura e io e Pablo a 21 anni facevamo la pietà proprio sono io solo io e Michelangelo nelle sue sculture tutte le sculture diceva guardate che lo scultore non fa mica niente di questo lui tira fuori qualcosa che è già dentro il banco è già lì che ti aspetta e chiama quel qualcosa la natura della roccia quel qualcosa di nascosto di dentro è già lì presente allora ribaltiamo la domanda invece che perché il mondo va così male come potremmo fare a rendere il mondo un posto migliore ricordatevelo che ci avete questa cosa che ci avete una natura preziosa che giorno dopo non è una roba veloce eh piano piano scolpire tirare via oggi un pezzo domani un altro ancora e ancora fino a che non riuscirete a tirare fuori il capolavoro più importante dentro grazie è vero credetemi è accaduto una notte su di un ponte guardando l'acqua scura con la dannata voglia di fare un tuffo giù non tratto qualcuno alle mie spalle forse un angelo vestito da un passante mi porto via dicendomi così meraviglioso meraviglioso ma come non ti accorgi di quanto il mondo sia meraviglioso meraviglioso persino il tuo colore potrà sembrarti poi meraviglioso meraviglioso ma guarda intorno a te i toni che ti ha fatto mi hanno inventato lì tu dici non è niente ti sembra niente il sole una vita l'amore meraviglioso il bene di una donna che è massante meraviglioso la luce del mattino l'abbraccio di un amico il viso di un bambino meraviglioso una donna un'altra io penso che i tuoi dettili sono universali non sei solo non sei isolato da nessuno tu appartieni grazie scopo fin Su Cera fine dello spettacolo Grazie e volevo ringraziare tutti voi il Consolato che adesso è possibile per dirigere scolastica tutti loro lavorano ogni giorno per far sì che tutto questo resti e anzi cresca